Prima dobbiamo fare una presentazione, ce la farà lui, per cui voglio solo dire che con noi c'è il grande Alfredo Castelli, lo vedete qua. Un applauso per Castelli. Con noi in spirito, poi riveleremo la vera identità dell'uomo mascherato, la maschera di ferro. È la prima volta che viene a Lucca, quindi è timido. Buongiorno a tutti, grazie mille. Nel frattempo vedo che la sala sta continuando a riempirsi, però partiamo perché il tempo è tiranno. Grazie mille anzi per l'attesa. Lucca Comics & Games è lieta di presentare quella che è l'ultima conferenza Sergio Bonelli editore per la giornata di oggi ed è dedicata a uno dei personaggi che anche in fiera hanno riscosso maggiormente l'interesse del pubblico, cioè Dampier. Per parlare di Dampier e dell'importante tagguardo raggiunto abbiamo un parterre di ospiti notevole, a partire da colui che è stato il co-creatore insieme a Maurizio Colombo del personaggio e nel curatore, cioè Mauro Poselli. Allora, grazie. Prima di partire col pezzo forte che è un video bellissimo che ha curato il nostro amico Alex Dante qui presente, faccio una brevissima presentazione, poi presenterò anche gli autori presenti nella prima fila, ma comincio con il parterre di ospiti internazionali. Allora, alla sinistra vediamo Nicole Genzianella. Giorgio Giusfredi, redattore della Sergio Bonelli editore e autore di Dampier. E poi per la prima volta, per la prima volta in una fiera, cioè da quando noi facciamo Dampier, è la prima volta che entrambi vengono, anzi anche singolarmente non sono mai venuti a una manifestazione, i fratelli Rossi, Luca Rossi, Mario Rossi in Arte Maio. Mi dicono ora che non sono fratelli, però ho sempre pensato. Luca Rossi in Arte Maio, i grandi autori di Dampier, autore del numero uno e del numero due e autore del numero tre, e quello invece era nel numero sette o otto, non mi ricordo più. Adesso partiamo... C'è anche Moreno Burattini che sta dicendo... Ah, Moreno Burattini ha le sue cose... E Bruno Brindisi. Moreno Burattini e Bruno Brindisi. Bruno, sentite dal pianoforte. Sì. No, non è uno scherzo, Bruno Brindisi è un eccellente pianista jazz. È un autore di Dylan Dog, come sapete, ma lo riveleremo dopo. Sta per unire gli sforzi di Dylan Dog e Dampier contro i vampiri. Adesso partiamo con la sorpresa di oggi, sul numero duecento, il trailer preparato da Alex Dante. Ewing euro. Quesono, il meccolo divinato di lui Buona prova. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oltre che per Alex Dante, naturalmente per i disegni di Luca Rossi e la copertina di Riboldi che avete visto animata. Allora adesso farò una piccola cosa, semplicemente faccio vedere la maglietta di Dampier che finalmente dopo 200 numeri siamo riusciti a farci fare. Quando abbiamo presentato Dampier 16 anni fa la maglietta me l'ero fatta da solo, ce l'avevamo fatti da soli. Questa invece è la maglietta ufficiale della Sergio Bonelli, l'editore. Ebbene, adesso vorrei soltanto, prima di partire con il racconto di cos'è, come siamo arrivati qui e come andremo avanti, abbiamo davanti a noi diversi autori di Dampier che non hanno trovato posto qui sul palco. A partire da l'uomo là con la chioma leonina grigia brizzolata, Rosenzweig, Maurizio Rosenzweig. Non ti crede nessuno. Daniele Statella. Fabio Bartolini. Claudio Stassi. Fabiano Ambu e poi quel signore con la barba di cui non ricordo il nome, Piazza Lunga, alzati. Piazza Lunga lavorava con Santucci e faceva gli inchiostri. Adesso invece fa la stessa cosa per Daniele Statelle. Insomma, abbiamo due mezzi di segnatori, insieme ne fanno uno bravissimo. Un doppio applauso per Piazza Lunga e Statelle. Mauro, c'è anche nell'ombra. Poi un po' in disparte, perché è un lupo solitario, Fabrizio Longo. Autore dello speciale, insieme a Moreno Burrettini, che è in edicola in questo momento. Abbiamo anche poi tra di voi qualche sceneggiatore, aspirante sceneggiatore. C'è Davide Barzi, là nell'Angle, ce ne sono altri. Giulio Gualtieri. C'è Giulio Gualtieri da qualche parte, è molto alto, ma eccolo là, Giulio Gualtieri, autore anche di Dylan Dog. Ebbene, vi dirò, adesso poi vi racconteremo altre cose, vedremo qualche altra cosa nei video. che Giulio Gualtieri, insieme a Recchioni e a me, e a chi tra di noi, Bruno Brindisi e Biliardo, che non è qua, sono i responsabili di qualcosa che finalmente è stato fatto, non so come verrà, ma che è il famoso incontro da Dylan Dog e Dampia. Dopo vedremo, spero, qualche cosa. Non vediamo nulla? Non vediamo nulla. Allora possiamo dirlo ora. Ne parliamo. Bruno Brindisi ha ricevuto pochi giorni fa le prime dieci pagine della storia di Dylan Dog e contro Dampia. Quanto mi mancava una tua sceneggiatura. Simpatico retroscena, non l'hai ancora letta, per fortuna tua. Quale simpatico retroscena? Quello di tanti anni fa. Devo dirlo allora. Ti è concesso? Era la cosa più naturale, si è detto da subito, visto che Dylan Dog tratta tematiche horror e Dampia anche, da quando è uscito Dampia praticamente su Dylan è stato anche vietato mettere vampiri. Perché erano a pannaggio di Dampia. Per quanto i vampiri che sono apparsi nelle storie di Dylan erano sempre molto particolari. Sto rompendo i timpani. Più lento, più lento. Vai. Comunque, era la cosa più naturale, visto che erano personaggi coevi, sicuramente più naturale che fare un crossover fra Dylan e Tex. Farli incontrare e farli conoscere se ne parlava da una quindicina d'anni. Perché ci abbiamo messo tutto questo tempo? No, è successo che tanti anni fa, lui non lo vuole dire, ma me l'ha raccontato prima, si è dimenticato. Tanti anni fa, io sapendo quanto Sergio Bonelli era contrario ai crossover o ai team up, ho mandato lui a una cena aziendale, in realtà era la festa in onore di Chico, in un ristorante messicano, a dire, vai a chiedere, Brindis, se ci fa fare l'incontro da Dampia e The Undog. Quasi licenziato. Però devo dire che molto spesso mi aveva detto un sì, poi un ni, poi un no. Alla fine abbiamo detto, in realtà adesso Sergio ce lo farebbe fare, non sappiamo se... Sì che ce lo farebbe fare. Ce lo farebbe fare, ma sì, e allora lo stiamo facendo, in realtà Bigliardo e Recchioni la loro parte l'hanno fatta. Io ho visto le bellissime tavole di Daniele, ovviamente non ho letto la storia, spero che me la mandi prima che inizi la mia. Beh, intanto io ti manderò qualcosa. Io ho solo dieci pagine e ho soltanto letto dieci pagine. La storia di Recchioni vede Dylan Dogg che incontra Dampia a Londra in una maniera abbastanza movimentata. Anche Dylan Dogg si prende un cazzotto da Dampia in piena faccia, sì, da Curiac, dall'amico di Arlan. Perché danno la caccia a una bella vampira, di cui Dylan Dogg ovviamente si innamora, questo è abbastanza un classico. Poi insieme dovranno sconfiggere il maestro della notte, cioè il super vampiro, nel nostro episodio. Quindi l'alba uscirà, secondo i nostri calcoli, in luglio di Dylan Dogg, una settimana dopo all'inizio di agosto Dampia. E' la stessa storia in due serie diverse. È la prima volta che si fa? Sì. Tu devi riuscire a finirla entro giugno, caro Bruna. Sì, bravo. Bruna è veloce. No, vabbè, ma è interessante, sono io il primo da lettore, il primo a essere curioso di vedere come interagiscono due caratteri così diversi. E effettivamente non sarà semplice, però vedremo. È un tentativo, è una delle tante occasioni che abbiamo pensato per festeggiare due anniversari. Cioè il trenternale di Dylan Dogg è il 200esimo numero di Dampia. Arriviamo un po' in ritardo perché sappiamo tutti che siamo presissimi. Recchioni lavora tantissimo, ha un sacco di idee. Mille ne fa e cento ne pensa, forse il contrario. E io idem, eccetera, eccetera. Però siamo arrivati al numero 200. 16 anni fa eravamo a Lucca per presentare il numero 1 che era disegnato da Maio, che finalmente vediamo qua in persona in carne e ossa, ingregito dalla fatica e dagli anni e dal numero di tavole che ha disegnato, storie bellissime, ambientate dovunque, nel mondo, in tutte le epoche storiche. E ha avuto l'onore finalmente di vedere la sua storia doppia, primo 1 e 2, ristampata in grande volume. Che effetto ti fa? Beh, un bel effetto innanzitutto. Scusate ma ho lasciato gran parte della mia bellissima voce in piazza dell'Anfiteatro questa notte. Non ce n'era mai stata tanta. Gran parte, per cui chiedo ancora scusa. Beh, è chiaramente un bellissimo effetto, anche perché il rivedere grossomodo stampate le pagine nel più o meno formato che uso io, rivedo tantissime cose che purtroppo con la stampa di 20 anni fa si erano un po' bruciate e un po' perse. Per cui è stato un bellissimo ritorno. Scusa Mauro. Abbiamo recuperato gli originali che lui aveva. Esatto. Perché nel numero 1 e nel numero 2 non eravamo ancora in grado, tecnicamente, in quell'epoca, la Bonelli, di stampare sulla nostra carta i disegni di Maio. Vedete adesso per esempio il tratteggio delle ombre nella chiesa lassù in alto. Ci sono delle scene in cui Arlan, in questo albo, scende nei recessi sotterranei del mattatoio di uno dei maestri della notte, così si chiamano i loro rifugiosi segreti. Ebbene, era tutto impastato. Non si vedevano i giochi demoniaci di ombre, i bassorilievi che lui aveva disegnato nelle pareti. Questa tavola, per esempio, è una delle più belle in assoluto del primo numero. No, del secondo, veramente. Del secondo. Della prima storia, diciamo. Ed è adesso molto ben visibile in questo albo che vi facciamo vedere. Il disegno di Maio, tra l'altro, è diventato ancora migliore dopo, ma era già ottimo allora. Io so che tu ti sei lamentato un po' dicendo ho disegnato storie migliori dopo. L'hai detto o non l'hai detto? No, non l'hai detto. L'hai pensato tu. L'ho pensato io. Perché la storia... No, vi devo dire che il suo apice sono state le due storie italiane, la storia di Grande Fiume e la storia delle Terminatrici, dove ci sono delle scene talmente belle che credo che chiunque dei disegnatori più presenti pensa che siano quasi insuperabili come tecnica pittorica. A me la storia che è piaciuta di più disegnare è stata I lupi mannari. I lupi mannari, vero? Sì, quella è la storia che ho preferito di più. Però volevo aggiungere solo una cosa, e sicuramente molti se ne saranno accorti, che in questa edizione sono state rimesse un paio di vignette che erano state scartate all'epoca perché erano un po', come dire, troppo truculente, troppo crude. Infatti, aggiungo, tu tieni pure il microfono e facciamo una specie di discorso così, aggiungo che qui manca una persona. In realtà è presente in spirito, essendo egli il non morto per eccellenza della serie, cioè Maurizio Colombo. Anche questa volta è mancato. Il trist bellissimo sarebbe stato di avere anche lui insieme a Luca Rossi e Mario Rossi, invece anche questa volta non c'era. Però devo dire che Colombo è uno che sceneggia con un grande col sangue, sceneggia letteralmente col sangue. Quindi all'inizio aveva scritto delle scene talmente forti che all'epoca tutti quanti insieme avevano deciso di attenuare un po' l'impatto iniziale di Dampier. Non che scene del genere non si siano viste dopo nella serie, anzi, non c'era niente di straordinariamente truculento, però io stesso mi sono incarinato all'epoca, questa è una cosa che si sa, di modificare alcuni passaggi. Alcune di queste immagini sono state recuperate, perché le avevi tenute a matita, e quindi sono state inserite in questo... No, erano state proprio immagini finite, chinate, che erano state sostituite e ricostruite alcune delle prime pagine. Anche all'interno della storia stessa, alcuni dettagli sono stati ricostruiti. Una delle scene iniziali si svolgeva in una chiesa esattamente come questa e ci era sembrato all'epoca che vedere dei segni vampireschi o delle croci in mano ai morti nel massacro della chiesa bosniaca cristiana all'inizio fosse un pochino forte. Queste scene sono state reintegrate nell'edizione che vedete, quindi è l'unica, diciamo, veramente integrale dei numeri 1 e 2 di Dampier esistente. No, per dire una cosa che noi sappiamo, ce la diciamo, ce la raccontiamo sempre, su questi primi due numeri, che te, Maurizio, l'avete scritto in una maniera speciale. Questa magia, che secondo me sono due numeri bellissimi, che fanno una storia bellissima, è stata scritta... Giusefredi è sempre molto, voglio dire, come si può dire, lui... Mi dà da lavorare! Spera che aumentiamo lo stipendio, questo non accadrà, da di tempi duri, però dice queste cose. È un po' imbarazzante. Non è vero, non è vero. Alla brinchetta. Come? Questi elogi sperticate... No, volevo solo dire come l'avete scritto, come l'avete scritto questo numero? Abbiamo scritto che uno dei due era al telefono e l'altro era a macchina da scrivere o viceversa. Cioè, si alzavano, uno scriveva, quell'altro andava a prendere caffè, quell'altro continuava. Sì, in realtà eravamo a volte anche in due case diverse, io scrivevo una scena, poi gliela facevo leggere e lui andava avanti. Il resto, i messaggi ce ne mandavamo telepaticamente oppure per telefono. Era un modo di lavorare che rare volte ho usato, se non con Maurizio, forse una volta con Moreno, ma voglio dire, in realtà, succede quando si è molto affiatati, ci sono dei momenti della vita lavorativa in cui si è molto affiatati, con lui siamo riusciti a fare due o tre storie così e poi basta, perché, come si sa, purtroppo a Maurizio hanno scritto altre molto belle da solo, ma poi ha avuto un po' una crisi che dura tuttora. In questa pagina, devo dire che dopo che passeremo oltre, si vede un po' il succo di quello che è la serie, per cui la versione, la doppia realtà, questo è il padre di Arlan, in due versioni diverse, quella reale è quella dell'immaginazione sfrenata, vampiresca, che è anche questa reale però, in un mondo, nel mondo dell'horror, nel mondo della magia e del mito. E Dampier effettivamente, come sa chi la legge, si svolge sempre su due piani diversi, la realtà e la magia. Questo è per quello che ci vogliono grandi disegnatori per questa serie. Uno oggi mi ha accusato di aver tolto i migliori e di averli dati a Tex, io sono anche il curatore di Tex, ahimè, ma in realtà, avete visto i nomi che ci sono qui e quelli che ho presentato, alcuni dei migliori ci sono ancora e come, e ce ne sono altri che non sono qui presenti ora. Per cui in realtà la serie vive sempre di grandi disegnatori, altri ne stiamo arruolando, tra cui, questo è uno scoop, il figlio di Claudio Villa. Ora, non potendo avere Claudio Villa, ci siamo presi Marco, il suo figlio, che purtroppo oggi non è qui. Che sta facendo Mauro? Dai dillo. Sta sempre parlando del fatto che Dampier ha la possibilità di svariare, non solo in varie epoche storiche o in vari luoghi della terra, ma anche in realtà, immaginarie. Lui stesso è un prodotto dell'immaginazione. Marco Villa sta disegnando, ha iniziato a disegnare i Vampiri di Montbrachem, per cui potete immaginare di cosa parlerà la storia. Con Sandro Caneglianez. Con Sandro Caneglianez in versione. Allora, io, prima di tornare ai disegnatori, passerei la parola a un altro valente sceneggiatore, dico che valente perché è qui presente e che è la prima volta che si cimenta in Dampier e anche lui ha fatto esattamente quello che si può fare in questa serie, cioè ha creato un mondo ispirandosi a che cosa? Sì, sentite, intanto buonasera. Sì, sono Moreno Burattini e sono l'autore dello speciale Dampier che è in edicola in questo momento e che si chiama La Porta dell'Inferno. Ora, dovete sapere che a Firenze nel Battistero di San Giovanni c'è una famosa porta tutta dorata che si vede anche nel film Inferno casualmente uscito proprio in questo stesso periodo che si chiama La Porta del Paradiso. Ecco, nel nostro Dampier La Porta del Paradiso diventa La Porta dell'Inferno perché quando Mauro mi ha chiesto di scrivere un Dampier io mi sono subito reso conto di due cose. Parte gli scherzi di prima glielo ho chiesto per dieci anni e finalmente si è deciso. Io ho da fare zagor diciamo e poi sentivo anche la responsabilità perché credeva che fosse difficile invece non è stato. No, no, ma credevo fosse difficile è stato difficile però penso di essere me la cavata in questo senso scrivere Dampier è veramente un'impresa che fa tremare le vene a polsi e non uso questo modo di dire a caso perché far tremare le vene a polsi è un'espressione che usa Dante nel primo canto dell'Inferno perché un applauso per Moreno che è un grande letterato studioso di lettere classiche e oltre che di Darkwood sembra uno simolo per lui fa letteratura popolare ma è veramente un esperto sì quindi insomma sapendo tutta la documentazione la cultura le letture di Mauro che è capace di spaziare dai miti arturiani alle leggende islandesi alle leggende del Biafra quelle dell'India misteriosa e tutto quanto della Sardegna io dicevo vabbè cosa posso fare insomma rispetto a lui essendo toscano cosa che non posso nascondere nemmeno dopo 20 anni di lavoro a Milano mi sforzo di dire Cadrega Cassula però buona la pronuncia buona bravo però tutti mi sgamano subito che sono toscano quindi avendo fatto l'università a Firenze ho pensato no devo fare una storia metata a Firenze ma non solo memore dei miei studi di che so filologia dantesca ho pensato di contaminare Dampir con Dante e vi assicuro che dopo aver letto e riletto più volte vari passaggi dell'Inferno di Dante e mi conforterà in questo Fabrizio Longo che poi magari vorrei un attimino sottolineare per le mamme su di lui e sottolineare alcune sue cose bene l'Inferno di Dante è la cosa più horror che abbia mai letto in vita mia quindi quelle cose che voi vedrete che avete forse già visto qui c'è il cane Cerbero qui c'è il Cerbero poi abbiamo Minosse dopo abbiamo solo due immagini l'immagine di Lucifero vabbè è una cosa assolutamente horror mi sono sforzato anche di documentarmi anche perché faceva parte delle impressioni su quella che è la filologia in una piccola parola nessuno dei testi precedenti all'invenzione della stampa cioè quindi diciamo le 400 giunti a noi non abbiamo nessuna versione sicura di nessuno di questi testi cioè tutte le copie che sono la Divina Commedia non abbiamo l'originale scritto da Dante abbiamo delle copie quindi se ci sono mille manoscritti della Divina Commedia e sono tutti uno diverso dall'altro perché quando si copia i libri a mano sono uno diverso dall'altro qual è la vera versione che cosa ha scritto Dante ci sono i manoscritti da studiare bene la nostra storia comincia appunto con un manoscritto scritto a mano in cui c'è forse una versione diversa della Divina Commedia da cui ci aspettiamo e questo provoca in qualche modo il fatto che Dampi gli altri personaggi che leggerete nella storia finiscono non in un inferno in un'altra dimensione ma proprio nella Divina Commedia nell'inferno di Dante ecco la cosa la caratteristica che ho segnalato anche nella rubrica annessa all'albo che lui per far uscire non vi posso fare uno spoiler come si dice però ha dovuto scrivere due terzine nuove una terzina una terzina dantesca inedita 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 per cambiare il testo dantesco e risolvere una certa al di là delle mie sforze poi finisco perché avete tante persone da far parlare però al di là dei miei sforzi di scrittore il vero compito insomma veramente quello difficile secondo me era quello dell'illustratore perché qui ci sono tanti disegnatori anche te lo stesso Bruno Luca potreste dire che cosa vuol dire confrontarsi con l'inferno di Dante avendo secoli e secoli di illustrazioni di visualizzazioni di questo inferno a partire da quella di Gustave Doré per l'appunto davanti a noi abbiamo una delle tavole in cui proprio Gustave Doré è proprio citato pari pari invece si vede meglio l'altra dove si vede il carne cerbero purtroppo ne abbiamo portate solo due però già l'idea di cerbero vi dà l'idea di quanto Longo abbia immaginato ha messo di suo no? non solo ma allora vi assicuro che ogni visualizzazione che ha fatto Longo corrisponde a quello che Dante dice esatto nei minimi particolari e ci sono state anche giunte delle lettere io ne ho letta una di uno che diceva complimenti perché sono andato a controllare e veramente è così è più fedele di Doré è più fedele di Doré non solo ma la difficoltà di far muovere una bestia che è un cane che ha tre teste diverse perché ogni testa corrisponde a un diverso aspetto della gola vero mi dice quindi voglio dire è veramente una difficoltà nel muovere queste cose nell'immaginare com'è questo inferno e Fabrizio Longo permettetemi altati Fabrizio sei stato bravissimo applauso aggiungerò come si capisce da quello che sta dicendo Morena a quello che abbiamo detto prima che i disegnatori hanno un lavoro veramente enorme e noi li scegliamo anche un po' matti in questo caso Fabrizio Longo è perfetto vero? perfetto allora l'ultima cosa sola perché poi vi lascio è che vedete un personaggio in questa stessa tavola che è il professore con gli occhiali che vediamo anche nell'ultima vignetta bene questo personaggio che nella nostra finizione si chiama Alessio Montanari esiste veramente il suo vero nome è Alessandro Monti che è il nostro il mio consulente cioè è un professore uno studioso che ha un passato da fanzinare lo conoscevo da quando era un ragazzo però è diventato veramente un luminare nella sua materia tutto quello che nel fumetto viene detto riguardo la lampada di V di guanti che si indossano quando si cerca il manoscritto come si cercano le segnature nelle biblioteche viene dalla consulenza che Alessandro Monti ci ha fatto bene noi presenteremo questo albo con Alessandro Monti che farà una specie di piccola lezione una conferenza il 18 novembre a Firenze e credo che sul Facebook di Dampir verrà detto come e dove ci sarà anche Fabrizio Longo che esporrà le sue tavole per cui qui siamo a Lucca se volete venire a Firenze dato che la farei metà a Firenze a vedere questa presentazione ci sarà anche Alessio Montanari alias Alessandro Monti grazie allora e quindi lui è riuscito a coniugare ancora una volta la letteratura polare con la cultura in un certo senso perché che era una cosa che Sergio Bonelli voleva sempre lui nelle sue storie anche quando scriveva Mister Novero anche quando scriveva Zagor Zagor è più di fantasia però cercava sempre di portare di sensibilizzare su certi problemi sociali culturali eccetera e adesso parliamo però grazie a Giorgio che ci fa vedere le immagini parliamo del 200 per cui torniamo indietro rivediamole poi con calma a partire dalla copertina di Enea Riboldi che è con noi dal numero uno quindi vediamo prima quella eccola qua ora vedete è una bella copertina questa indubbiamente Enea ci presenta non solo il terzetto di eroi vedete Tesla Dampir e Kuriak ma anche alcuni degli amici che hanno accompagnato Arlan Draca in questi 200 numeri 200 numeri sono tanti per di più la serie l'abbiamo inventata io e Maurizio che abbiamo detto non è solo Longo il pazzo qua dentro ma anche noi per cui non abbiamo pensato oltre a questo terzetto ci sono una miriade di personaggi cattivi e buoni alcuni sono morti tragicamente o meno nel corso di questi 200 numeri altri sono ancora vivi molti sono amici dei nostri eroi per cui in questo caso dovendo Arlan combattere contro uno dei suoi nemici più in gamba non dico peggiori perché è anche simpatico molti dei lettori sono affezionati a Erlich Khan che vedrete qua in una versione mostruosa nella copertina Variant che Simone Bianchi ha disegnato una copertina wrap up cioè che contiene sia il retro che il fronte e che è in vendita qui a Luca si vede Erlich Khan il dio della morte ebbene vedo che lui lo sta cercando eccolo qua questa è la versione diciamo di Erlich mostruosa come dio altaico turco della morte dell'Asia centrale nel video prima di Alisante l'avete visto Nobile nella sua versione umana umanoide ebbene Erlich ha collaborato anche a volte con Dampir per esempio in una storia che si chiamava Arlequin lui ha combattuto contro un demone che si faceva chiamare Arlequin lui Erlich Khan è diciamo sono io l'inventore della figura di Arlequino per cui voglio combattere con te questo nemico più cattivo di me qui purtroppo sono ritornati nemici quindi si affrontano all'ultimo sangue e quindi la legione di Arla Draca il titolo significa che Arlan è costretto a portare al suo fianco alcuni dei suoi se puoi tornare alla copertina un attimo e anche alcuni dei suoi alleati principali quindi sull'aereo rosso che vedete volare è un Fokker un Fokker biplano Fokker della prima guerra mondiale c'è un asso dell'aviezione austro-ungarica esistito veramente Godwin Brumoski però nella nostra realtà è stato trasformato in non morto dal maestro Draca è un alleato di Dampir abbiamo un samurai è uno yakuza in realtà ma ama vestirsi da samurai perché lui ha avuto delle vite precedenti per cui si ricorda di quando era un samurai vagabondo si chiama Asegawa Kenshin protagonista di una storia doppia che è stato uno dei capolavori di Nicola Genzianella e quella signorina con la ciuffo bianco che si erge in cielo è una ragazza che addirittura quello che succede solo nei fumetti era anziana nei primi numeri e poi era ingiovanita nel corso della storia è diventata più giovane si chiama Ann-Jurgin è una veggente ma essendo talmente in gamba e combattendo contro una strega formidabile che era Elena Morkov personaggio di Maurizio Colombo che era la strega regina bene assume i suoi poteri è in grado addirittura di oltre che di fare quello che vedete voi lì di alleggiare sparare lampi dalle mani è in grado anche di evocare niente meno che le tre parche le erini scusa non le parche le furie le erini le tre parche sono le zie di Arlan c'è di tutto in questa mitologia da Piriana e quindi loro tutti insieme contro i nemici di Arlan Drac andiamo a vedere alcune delle pagine a colori i colori sono di Romina Denti che dovrebbe essere qui da qualche parte Romina Denti ecco Romina Denti vedi per fare un fumetto occorrono molti personaggi qua vedete il mondo dei maestri Giorgio corre troppo perché lui è veloce esattamente come gli ho insegnato e questo è il mondo dei maestri dove Draca ha un suo rifugio è lì che cammina con Erlican ha mimetizzato il suo castello dove vive con la sua nuova sposa e il figlio che finalmente è riuscito a fare un figlio che non sia un Dampier che non sia pericoloso per la sua razza però in questo mondo arriverà la minaccia costituita da Lord Marsden il cattivissimo questo succederà negli albi successivi andiamo un attimo avanti questo è uno dei castelli di Draca in Transilvania la bara che voi vedete porta Godwin Brumoski qui invece vediamo Erlican in azione vai avanti e qua vediamo invece a Iurgi in azione contro i lupi azzurri i lupi azzurri sono un altro gruppo neonazista una specie di gruppo neonazista che però ha qualcosa di buono non molto ma qualcosa sono tenaci dopo che le hanno prese le hanno prese di Santa Ragione per 200 numeri e qui hanno imparato qualcosa alla vita hanno deciso di aiutare i nostri eroi perché per una volta sono della parte del bene ci sono dei rimascolamenti di carte Mauro manda due donne a piccarli questa è una scena che a lui è piaciuta molto però ti è piaciuta nonostante che tu sia un notorio non diciamo allora c'è una scena abbastanza spero divertente che voi vedete qui sintetizzata dalla prima vignetta le due entrano in locali lupi azzurri che sono dei noti misogini e loro in realtà non sono così cattivi perché non sono razzisti veramente loro scelgono i super uomini in tutte le razze in tutte le razze ci sono dei neri degli arabi degli ebrei dei cinesi dei giapponesi degli italiani perfino quindi essendolo tedeschi per la maggioranza questa è una cosa bella però non vogliono le donne e loro vanno a spiegare veramente alcuni di noi sono più in gamba di voi e glielo dimostrano brutalmente come vedete in particolare Tesla li spaventa a perfezione a questo punto loro si allena ad Ampir combattono Arlick Khan qui vediamo Godwin Bromowski in azione contro l'armata della morte di Arlick Khan disegni bellissimi di Luca Rossi al quale passiamo un attimo la parola prima di dire come va avanti la storia perché in realtà non finisce nel numero 200 il numero 200 è a sé stante ma la storia è molto più complicata di così come sempre Luca che hai da dire non solo su questo numero ma anche su come è andata la tua carriera ad Ampiriano e la tua carriera in genere perché tu sei diventato anche un famoso autore in America intanto è un traguardo veramente essere qui a celebrare il 200 perché se penso la prima volta che sono entrato in redazione con Mauro e Maurizio è veramente cambiato tantissimo e soprattutto tra l'altro questa ultima storia è paradossalmente la più differente che ho disegnato perché mancano tutti gli elementi che di solito Mauro inserisce nelle storie come città lugubri oppure nebbia sì sì questo albo che vedete qua che è la prima raccolta d'Ampiriana ti interrompo un secondo per fargli vedere è disegnato da lui da Genzianella da Rossi ed è una caratteristica di questa che è una parte di Dampir cioè le città gotiche la mite dell'Europa la nebbia le leggende pensavo che lui fosse eccellente per questo tipo di storie e quindi gli ho dato una storia piena di mitra aerei elicotteri la difficoltà è stata inizialmente prendere confidenza con dei personaggi che non avevo mai disegnato e qui ce ne sono tantissimi e poi portare appunto quegli elementi grafici un po' espressivi che usavo nelle storie precedenti con particolari come appunto ombre ombreggiature strane portarli in un ambiente completamente desertico quindi è stato quello un po' la difficoltà e poi soprattutto la gestione delle inquadrature perché essendoci così tanti personaggi da gestire era importante focalizzare delle immagini sui primi piani e su quello che succedeva mantenendo comunque dinamico tutto il resto è stato un bel lavoro insomma come avete visto non solo qui ma anche nel filmato di prima nel trailer la storia si svolge in gran parte nel Medio Oriente dove adesso combattono una guerra perché i vampiri di Dampier si mascherano si mimetizzano tra le guerre c'è una guerra sanguinosa in atto e loro quindi entrano in questa guerra l'armata di Erlican però non è del tutto cattiva perché le peste sode ai cattivi del momento reali non vi dico come perché lo leggerete dopodiché però arriva Arlan che deve comunque eliminarli quindi diciamo le cose sono complesse vedete che qui il buon Luca ha dovuto disegnare degli elicotteri Apache si infatti che non avevo mai disegnato non vi ricordo più ma in lotta e questa è l'armata della morte che è costituita da soldati di tutte le epoche si che è la cosa più divertente si perché ha dovuto fare le divise dei soldati di tutte le epoche è divertente e allo stesso tempo comunque impegnativa perché è impegnativa perché c'è comunque una ricerca di una documentazione per tutte le divise i costumi che sono molto precisi e in questo poi mi è venuta in aiuto la colorista perché ovviamente anche lei è stata molto precisa ecco il grosso della difficoltà è stata questa quindi devo dire che è stato bravissimo io gli darei un applauso perché è riuscito a fare quello che ai disegnatori in genere riesce difficile come no andare contro il suo talento migliore lui anche in America ha fatto House of Mystery che era un spin-off di Sandman di Nick Gaiman giusto? più o meno è stato costretto ha fatto delle cose meravigliose sempre nell'ambito della leggenda del gotico e qua invece gli ho dato una cosa del tutto diversa per una volta comunque è stata una sfida che mi sembra che è stata vinta grazie anche ai colori di Romina che sono strepitosi assolutamente possiamo vedere cosa c'è dopo? allora questa è la copertina non correre la copertina del numero seguente è il dito veloce è il dito veloce sei troppo veloce la copertina del numero seguente gli 200 il 201 il 202 sono in realtà collegati ho avuto questa idea uzza bizzarra che insomma tra le tante si svolgono tutti nella stessa notte approfittando del fatto che Erlich e Arlan e altri ancora se le danno di santa ragione all'eserdo dell'Iraq della Siria non so bene dove ebbene gli altri nemici decidono di entrare in azione e di sconfiggere definitivamente gli amici di Arlan Draca che sono in tutto il mondo per cui questa storia si sposta a Londra dove gli altri amici di Arlan che si trovano nel Globetrotters Club che si trova in Paul Mall esiste veramente il Travelers Club è diventato il Globetrotters Club in questa serie e gli amici di Arlan sono assediati dai Tillwood Tag cioè i mostruosi elfi della corte maledetta comandati a Black Annies che è nemica della stirpe dei Dampi da ben 1600 anni chissà se almeno lei riceverà la lezione che si merita in questa serie non lo sappiamo qui vediamo un momento in cui Erlich no facciamogli vedere in cui Erlich si accorge che qualcuno in realtà li ha manovrati li ha manovrati entrambi per ottenere i suoi fini questi disegni sono di Nicola Genzanella a cui poi daremo la parola passiamo oltre un attimo e nel numero 202 i fili dovrebbero dico dovrebbero la storia l'ho finita ma Bocci la sta ancora disegnando vedete che bellissima copertina di Henry Bolden in cui si vede Arlan con lo sfondo suo padre e il mondo dei maestri che non è quello vero è quello che Draca ha ritrovato nel multiverso per ricreare la sua razza senza il malanno del Dampier il fatto che loro non possono avere figli sulla terra vediamo dopo alcune immagini che Bocci ha realizzato di questa storia devo dire anche i disegni di Bocci sono strepitosi non è qui personalmente Alessandro oggi per cui dovremmo tributargli un applauso semplicemente in absenzia in questa tavola vi mostriamo un essenziale momento vampiresco con il padre di Arlan che uccide dei cattivoni per fidanzarsi con questa bella donna latta che darà la luce poi un altro fratellino a Arlan Draca che si chiama sa Dio come si chiama perché con tutti i personaggi che scrivo me lo sono dimenticato si chiama Arrak che vuol dire drago in qualche lingua orientale andiamo avanti e questo è sempre Bocci e questo invece è il cattivo della serie il cattivo numero uno insieme a Nergal il principe dell'inferno è Lord Mars nemico di tutti loro anche di Erlich che purtroppo interviene per uccidere le guardie carpaziane che difendevano la ragazza e il figlio e da questo momento in poi non c'è nulla che separi la nuova progenza di Draca dalla morte mi commuovo quasi al pensare che non sappiamo come andrà a finire non ve lo dico ma bisogna vedere se Arlan deciderà di salvare il fratellino e la matrigna oppure no e se riuscirà a arrivare in tempo siccome se le sta dando di santa ragione con Erlich Khan nell'Azio centrale deve anche salvare i suoi amici a Londra e come farà e tutto avviene nelle stesse 12 ore in diversi punti della terra e del multiverso per cui questo è un po' complicato insomma gestire questa storia mi ha fatto quasi uscire pazzo ma per fortuna avevo l'assistenza di Giorgio andiamo avanti e torniamo a Moreno per cui possiamo parlare la parola a Genzianella anche lui credo e chiedo essendo con noi da tanti anni una breve disamina di questo periodo e cosa ti ha dato Dampiro che cosa ti ha tolto scusate la voce ma anche io vedete mente sono reduce dalla storia di Boselli che mi ha provato molto forse mi ha abbassato le difese umanitarie quindi è un po' di raffreddore mi sono venuti questi giorni è stata faticosa anche questo 201 come condivido con Rossi che è stata una storia insolita per me epica battaglie dall'inizio alla fine e quindi insomma e devo dire che anche personaggio di Arla non so se si può dire è stata forse la prima storia in cui ho disegnato forse più no non si può insomma diciamo che è meno presente di altre volte nella mia storia no voglio dire essendo ovviamente impegnato in altri luoghi ovviamente questa storia è più corale di altre ma non tanto perché voglio dire a un certo punto compare compare sì sì ma compare la zia Amber si dunque solitamente un disegnatore viene assegnato a storie in cui magari ci sono personaggi protagonisti che ha già disegnato ecco non è stato questo caso perché tutti diversi mai fatti prima adesso dopo quasi vent'anni che lavoro e quindi cerco sempre di facilitare il lavoro ai miei collaboratori ulteriore dove si incentra appunto su personaggi Black Canis che aveva creato Mario Laurenti Mauro Laurenti nel sigillo nero credo adesso non voglio ecco Nicola c'è un'altra c'è un'altra c'è un'altra c'è un'altra c'è un'altra credo che tu ti stia riferendo a questa quindi con mio veramente grande piacere sono tornato a lavorare con con Maurizio Colombo che credo che la mia stima per lui sia uguale a quella che per Mauro veramente ho anche lui ho un affetto per questo ragazzo sì questo questo grande sceneggiatore di Maurizio sì no scusa Mauro ma parlo anche di lui adesso che con cui ho avuto ho condiviso la mia prima esperienza lavorativa in Bonelli con lui ho fatto due storie di cui mi ricordo un piacere la luce nera sono stato molto contento di tornare a lavorare con lui è una breve storia di 32 pagine all'interno del del magazine che uscirà se non erro il prossimo 25 novembre 25 novembre 25 novembre ma è di Dampy la storia Nicola la storia grazie dell'appoggio scusate ma io non sono abituato la storia avrà come protagonista Tesla quindi si intitolano Raid Party dilla tu sì allora praticamente Maurizio quando ha fatto questa storia qui intanto siamo contenti perché torna a scrivere Maurizio come noi festeggiamo Sclavi giustamente il maestro di Landog uno scrittore di Dampy che torna a scrivere speriamo torni più frequentemente e venga anche a Lucca l'anno prossimo torna con questa storia di Nicola Genzanella che Nicola l'ha realizzato benissimo come il 201 e anche una libertà grafica anche una libertà grafica l'abbiamo concessa l'abbiamo Nicola essendo un artista che lavora per la Francia del mercato francese un artista della gabbia libera cos'è la gabbia? sì beh diciamo che due caratteristiche di questa storia è prima avere una composizione libera chiaramente mi è stato concesso ovviamente non è stata un'idea e la seconda ecco io vedo per la prima volta perché è stata un'idea di Giorgio sì è realizzata da Gian Mauro Cozzi la colorazione in due colori che non sono sempre gli stessi però a volte verde a volte rosso a volte blu a seconda degli stati d'animo della pagina sì Tesla rivive diciamo dei suoi incubi vabbè poi non vi spiego altro Tesla che ha avuto una vita drammatica perché prima era una rivoluzionaria una ragazzina che faceva la rivoluzione in Germania e le prendeva di santa ragione poi è stata vampirizzata e quindi costretta a squartare i ragazzi cosa? 15 minuti ai 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 allora andiamo avanti le recuperiamo quelli di prima vuoi vedere dopo? basta sono finite le tavole di Genzianella insomma le varie sequenze che poi diciamo in realtà io ho risolto a mezza tinta che rivivono diciamo queste esperienze posate in Tesla avranno delle colorazioni diciamo delle tonalità diverse quindi questa è un'altra caratteristica e qui si vede il disegno a mezza tinta di Nicola colorato in ma anche qui questa è la parte più sanguinolenta nel mattatoio con Shrek e Gorka no? che ripende la scena del numero 8 che ha disegnato Maio sì che non ascolta Maio no e dopo invece praticamente sono tutte le persone che lei ha ammazzato che risorgono per avere vendetta insomma passiamo un attimo velocemente all'albo il numero del magazine il primo di Ampere Magazine conterà anche una storia di Paolo Baciglieri scusa Maio ti interrompo un attimo è arrivata anche Silvia Califano ecco allora applaudiamo anche Silvia Califano che è seduta nell'angolino alzati Silvia alzati Silvia fatti vedere ecco dirò rapidamente due cose sul magazine poi parlo delle loro storie e poi passiamo se c'è qualche domanda questa storia è di Paolo Baciglieri grandissimo è ambientata in Svezia e nel passato reale e anche fantastico di un grande pittore scomparso giovane John Bauer qui raccontiamo la sua tragica storia era il pittore dei troll ho già detto all'incontro a Bonelli che io casualmente capitando nel paese natale di John Bauer scoprendo la sua storia incredibile ho deciso di raccontarla la finzione narrativa che ho usato il fatto che John Bauer fu diciamo in un certo senso lui e sua famiglia furono uccisi dai troll per vendicarsi del fatto che lui li aveva traditi è quello che credono gli svedesi oggigiorno quindi io ho semplicemente preso per buona la leggenda e l'ho raccontata tutti i fatti la vita di John Bauer sono reali praticamente il re della montagna che è il titolo della storia che è un troll gigantesco non voleva essere dipinto e si è vendicato non solo ma lui anche si faceva chiamare così il re della montagna essendo il più grande pittore di tutti i tempi di fiabe nordiche Bacilliare l'ha fatto come vedete gragiamente a suo modo qui vediamo la moglie di Bauer che era anche lei una grande pittrice a Roma e via di questo passo e qui in Lappogna va bene vediamo cosa c'è ancora tanto perché abbiamo delle altre immagini queste sono delle immagini di Lozzi sarà il numero che seguirà il numero 203 vedete altre strepitose immagini di Lozzi che non è qui presente con noi e questa è Cropera questa è una storia di Giorgio Sfredi avrei voluto cedergli alle parole ma non c'è tempo Giorgio però ha creato insieme a me in questa storia qui un nuovo personaggio puoi dire di chi era amico questo nuovo Maestro della Notte? eh no diciamo già che c'è un Maestro della Notte allora lo diciamo questo è uno degli spoiler abbiamo rovinato tutto praticamente l'unica sorpresa che c'è come nella storia non scherzo allora si dice c'è un nuovo Maestro della Notte diciamo che è una quadrilogia in cui vedremo in azione questo nuovo nemico che è amico di un vecchio Maestro della Notte vi diciamo anche chi è? Musuraka Musuraka per cui è legato al cinema questo primo episodio si chiama Bloodywood un titolo suo cioè Hollywood di sangue il primo episodio vedete si vedono delle scene abbastanza truculente con i mostri il cinema eccetera eccetera si è arrabbiata anche la moglie di Cropera si l'ha trovato troppo troppo sanguinosa no Giorgio è esagerato la nuova generazione mi seguite però abbiamo creato una quadrilogia dove negli altri episodi Arlan, Tesla e Kurya saranno da soli a combattere in ogni storia contro questo nemico formidabile senza sapere però anche il lettore non lo dovrà sapere che è lui per cui la storia seguente però ve lo dico già tanto ve lo dimenticherete è quella che sta disegnando Silvia Califano ed è praticamente Kurya a solo in questa storia senza Arlan né Tesla eccetera eccetera va bene io direi che avrei potuto parlarvi ancora del futuro di Dampier il futuro sicuramente ci sarà un po' ve l'abbiamo accennato abbiamo altre idee per il futuro penso diciamo due cose Mauro e allora appunto di Silvia Califano l'hai detto Daniele Satele e Patrick Quazalunga anche usciranno quest'altro anno con un'altra storia il passato di Arlan Draca in Inghilterra Mods e Rockers Mods e Rockers quelli di Quadrofinia praticamente in versione Dampieriana anche in questo caso abbiamo messo una salsa diciamo d'epoca primi anni 60 invece Claudio Stasi sta lavorando sulla terza parte della trilogia spagnola insieme alla sceneggiatura di Gregorio Ambu sta disegnando il Dia dello Smuertos che uscirà per il Dia dello Smuertos l'anno prossimo per Halloween l'anno prossimo dobbiamo farlo uscire però tu ne fai un'altra nel frattempo non battere la fianca mi raccomando è scritta da Claudio Falco Piazza Lunga abbiamo detto sta lavorando allora posso dire una cosa lo dico io Mauro se no te vai troppo cioè la spari troppo è lungo possiamo dirlo possiamo dirlo morirà qualcuno di importante nella storia sua? davvero non ne sono sicuro posso anche cambiare idea per cui diciamo soltanto che la storia sua si svolge a Praga e vedrà in azione Rabbi Loh e il Golem per cui abbiamo giudicato che dopo l'inferno dantesco e il massimo del cattolicesimo medievale avremmo dovuto dargli il massimo dell'ebraismo tardo medievale di questo è rimasto un po' dispiaciuto Rosenzweig avrebbe voluto disegnarla lui dire la verità però a Rosenzweig ti ho detto non potendo disegnare Rabbi Loh il grande Mara il grande rapino di Praga ti ho concesso di disegnare delle guerriere di scinte che combattono dei demoni tentacoluti in una prossima avventura in due episodi sei contento? grazie ok la chiudiamo qua aspetta aspetta ci abbiamo fortunato ci sono anche altri va bene sì qui non sapevo che avevamo delle altre tavole di queste sono di Alessio e Fortunato vedete che meraviglia e qui veramente ho perso perché non so neanche più di cosa parla questa storia ma è bellissimo qui c'è Mozart Casanova c'è di tutto e c'è anche il ghetto come vedete anche qui allora se c'è qualche domanda veloce abbiamo 5 minuti no anzi abbiamo 8 minuti da recuperare perché prima avevano sforato no vedo una mano l'ha alzata c'è qualcuno che può portare una microfono laggiù quello che vuoi uno che funziona a proposito mi dice qui Alecdandi ricordavi che le magliette che sono qua sono in vendita allo stand Bonelli finalmente siamo riusciti a fare perfino le tazze le tazze che riproducono un bellissimo disegno di Maio uno dei più belli cioè il frontespizio della serie quindi potete bere il caffè ogni mattina con un po' di sapore di sangue e qua anzi vediamo qui abbiamo il primo libro il primo libro brussurato di Dampier il secondo I maestri della notte conterà storie bellissime di Dotti di Luca Rossi e di altri 5 storie scelte sui maestri della notte dove muo la domanda dato che Dampier ha comunque una trama continuativa piuttosto stretta e abbiamo avuto dei personaggi che sono invecchiati sono morti tanti purtroppo che sono invecchiati e sono morti succederà anche prima o poi con i nostri protagonisti non tanto chiaramente con Tesla o con Arlan tu stai pensando a Kuryak? certo Kuryak è una certa età è più giovane di me ma non manca molto ormai a raggiungere la mia età lui è più giovane ma comunque diciamo che non è più un'età da combattimento abbiamo una sorpresa per Kuryak Kuryak come qualcuno saprà che ha letto attentamente non è facile lo riconosco io stesso mi dimentico è stato recentemente infettato da una creatura lovecraftiana il re in giallo che gli ha inserito dentro la pallida maschera della verità quindi questa questa creatura interna a un certo punto troverà qualcosa cioè succederà qualche cosa che lo metterà veramente in pericolo ma non vi voglio dire come non vi voglio dire cosa succederà Kuryak sarà sicuramente in pericolo di morte tra breve è una morte che può capitare a tutti noi anzi che capiterà a tutti noi perché lui è l'unico personaggio umano del terzetto per cui mentre gli altri possono andare avanti lui no non ti dico però non posso svelarti cosa ho in mente intanto c'è Paolo Bacigliei laggiù in fondo Paolo Paolo eccolo là col capellino l'autore della storia del magazine che fa la sua entrata spettacolare davanti a Giacomo Puccini perché tra i due c'è un'intesa Mauro abbiamo un'altra domanda salve buon pomeriggio io volevo chiedere una cosa riguardo alla dimensione nera se sono se sono previste delle altre storie o altri antagonisti e poi un'altra domanda che riguarda un mio personaggio un mio antagonista un mio avversario di Arlan di Arlan Draka forse uno dei più terribili cioè Torque se è veramente stato ucciso definitivamente oppure se avremo la possibilità in futuro di rivederlo allora mi spiace per te Torque è stato ucciso alcuni l'ho dovuto eliminare però è chiaro che i suoi seguaci possono trovarsi ancora in vari posti del mondo quindi è possibile che ci siano la dimensione nera che è stata realizzata poi meravigliosamente da Maurizio Rosveg in un albo doppio esiste ancora non è più applauso per Rosveg ancora va non è più una fucina di storie nel senso che la dimensione nera a partire da Maurizio Colombo l'abbiamo usata per ogni tanto introdurre dei nemici poi è stata stava diventando un po' un po' noiosa questa cosa perché c'erano questi demoni neri con le varie caratteristiche era carino però non poteva andare avanti all'infinito l'abbiamo fatto in 7-8 poi abbiamo deciso di chiudere con questa guerra nella dimensione nera esiste ancora ma non è più come prima un'origine di storie infernali vedremo se potremmo usarla ancora di sicuro in quella storia che Maurizio disegnerà che si svegliere in un altro mondo e dove vedremo le guerriere di Scinte non era una battuta quella ci saranno anche dei personaggi della dimensione nera grazie e poi c'è una sorpresina molto più prima che vedrete sulla dimensione nera e su demoni la dimensione nera lei si ricorda cose che io non mi ricordo ma abbiamo tutti gli appunti per fortuna c'è qualche altra domanda? abbiamo ancora 3-4 minuti usiamoli al meglio semmai se non ci sono domande facciamo dire a Giussfredi alcune anticipazioni no io vorrei vorrei fare una cosa allora c'è una domanda laggiù guarda Giovanni io intanto volevo fare una cosa prima di andare via far venire tutti gli autori di Dampir qui sul palco se venite si fa una foto di staff per far vedere che siamo uno staff molto dito domanda se proprio non ci sono io ne approfitto mi sembra che in generale su Dampir i disegnatori siano scelti molto bene no vabbè a parte sono bravissimi ma sono anche scelti molto bene in relazione alle storie che devono fare sarei curioso di capire come avviare il processo beh ci sarebbe molto da dire ma è chiaro che prima abbiamo detto che lui o lui hanno delle caratteristiche un po' più nebbiose oniriche gotiche mentre Dotti è più d'azione più storico Maio eccelle in tutto ma anche lui è storico è bravo cioè la storia che lui piace molto i Lupi Mannari si svolgeva durante la guerra dei trent'anni in Sassogna in una certa regione remota della Sassogna e lui ha riprodotto quella pure semplice come era in quel periodo era così e non era così sembra così e questa è l'abilità sua per cui se devo fare una storia difficilissimissima ambientata in un periodo storico la da lui mentre non so Mauro Laurenti che di storia non ci capisce una che gli dava una storia invece di heroic fantasy totalmente fantastica in cui lui eccelle con delle belle ragazze eccetera idem Maurizio Rose dimensioni parallele perché lui è talmente fuori di testa che le dimensioni parallele vanno bene il realismo è un'altra cosa per cui vai forte quindi è chiaro che usiamo queste caratteristiche per esempio Silvia Califano mi ha chiesto di fare una storia legata al cinema horror classico per cui stiamo facendo questo horror movie in cui il momento migliore dove lei eccelle veramente ci sono gli zombie e gli zombie li ha fatti meravigliosamente bene e così via quindi chiaramente sto cercando sempre di non andare contro la natura dei disegnatori stessi ma di assecondarli esattamente siamo scordati Bartolini che sta facendo una storia di Gregorio che si chiama Curiac il Vampiro è vero allora nella storia di Gregorio si chiama Curiac il Vampiro questo dice tutto dove ci spingiamo a volte con l'immaginazione ecco Bartolini è un altro che dà una precisione incredibile non posso dare lui delle storie oniriche però gli ho dato spesso delle storie dove ci sono dei momenti commoventi per esempio la tomba della madre di Arlan la morte di un personaggio che a me piaceva molto come Jeff Carter ecco questi momenti lui li fa in un modo che oserei dire struggente per cui allora affido a lui questo tipo di storie e così via anche se poi c'è un realismo fotografico che quasi contrasta con questo pathos che lui riesce a mettere insomma ognuno di loro hanno le sue caratteristiche Stastri sta facendo le storie spagnole perché vive a Barcellona Ambu anche lui fa delle storie sempre un po' bizzarre la sua prima storia anche quella era ambientata a Praga c'era il Golem perché è riuscito a fare bene il ghetto di Praga secondo in questo solo a Luca Rossi Longo sta cimentandosi anche lui con questo tipo di storie preghesi oniriche perché anche lui avete visto l'inferno suo è estremamente bizzarro questo è il modo in cui in Dampir teniamo in pugno diciamo la parte grafica della narrazione una caratteristica di tutti i disegnatori chiedo che i miei colleghi siano d'accordo è quella di essere molto completi anche come disegnatori perché si è in grado di disegnare tantissime cose e comunque ci capita di cambiare situazioni da una storia all'altra periodi storici quindi comunque anche questo ci completa cioè ci fa crescere almeno a me è successo così nell'arco di tutti questi anni quindi uscire da Dampir dopo tanti anni si diventa un'altra persona un altro cioè più professionisti e molto più completi come a livello di disegno questo credo che sia in dubbio no allora bisogna chiudere io ringrazio ovviamente tutti quanti la serie di giovani editore Mauro e Davide certo che è il nostro editore e i disegnatori di Dampir che si sforzano tantissimo infatti tipo Maio e Luca Rossi sono una cosa che poi i cui presenti si sforzano tantissimo lo diciamo noi ma a loro che ne diamo e lo sogniamo si per quello lavorate di più lavorate di più per esempio Maio e Luca Rossi talmente tanti anni che non venivano a Luca e che lavoravano nelle loro case che ieri sera quando erano a bere in piazza di teatro Maio ha detto ma cos'è la variant cover una cover del principe variant mi ha detto sono fuori dal mondo poveretti applaudiamoli scherzava eh scherzava però mi sono molto divertito no non scherzava va bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti